buon pomeriggio a tutte e buon pomeriggio a tutti come state ragazze spero bene allora nuovo video chiacchiericcio vlog come state spero bene dunque questo video appunto per un po con voi e soprattutto per dirvi che finalmente ce l'ho fatta registrare altri video se lo so dicono sempre così ma alla fine è quello che ragazze niente allora metto il microfono perché non so se mi sentite bene niente allora se riesco aspettate un secondo eccomi qua ora mi dovresti sentire meglio speriamo bene perché è la prima che sto tentando di registrare e quindi non so cosa ne uscirà fuori quindi niente ragazze allora questo era un video appunto di prova perché sto registrando non più con l'iphone ma con la galaxy s3 se non mi ricordo aspettate che guardo si guarda sì 13 a 13 e niente quindi devo fare letto ma alla fine l'ho già fatto quindi pazienza e niente quindi cosa dirvi di bello oggi sono stata maddalena se mi vedete con gli occhi nuovi è perché finalmente non vedevo l'ora di avere gli occhiali e primis scusate le interruzioni allora vi dicevo che ho preso 9 occhiali perché gli altri mi si erano rotti ovviamente facendo una brutta caduta per fortuna è andato bene fortuna tra virgolette e quindi nulla alla fine ho preso questi 9 occhiali sono belli l'archi ma almeno ci vedo bene per i larchi e spessi non so se si diceva così però ci vedo bene finalmente è nulla aspetta un secondo quindi ho dovuto aprire di nuovo la finestra perché la tenda perché non si vede bene se no il video e quindi voglio fare un po più di luce tutto lì niente i prossimi video saranno video make up se riesco perché voglio riuscire a fare questi video di trucco cos'è che ho qua aspettate niente c'era un piccolo pelo sul telefono vabbè che dirvi finalmente sto riuscendo a registrare altri video sono contenta di questi occhialetti che sono belli giganti ma almeno ci vedo al triplo meglio ci vedo meglio di prima quindi sono contentissima non mi ricordo il prezzo non ve lo chiedete però almeno ci vedo meglio e niente adesso vi attacco qua al cavalletto e rieccomi allora dunque ho anche la nuova custodia ovviamente nuovo occhiali nuova custodia perché gli altri occhiali oramai ciaone proprio hanno fatto la sua storia e questi lo so si vede riflesso della ring light ma pazienza in qualche modo ci devo pure vedere e niente quindi che dirvi sono tentata a guardare sempre di là ma devo guardare di qua vedete non so mai dove guardare io e nulla a breve farò se riesco perché ho provato a esportare il video prima il video come dire dove stavo facendo vedere le stesse chiacchiere ma alla fine il mio telefono è proprio andato a male perché l'ho aggiustato sì ma ho sempre poca memoria poi si scarica in continuazione e io alla fine ho usato lo samsung che volete che vi dica uso lo samsung e se non dovesse andare bene anche il samsung cambia lo telefono ma non ci penso neanche al momento mi tengo quello che io è a caro e la ragazza che è bella che vi dico cioè è nulla quindi questo questo occhiale mi stanno facendo morire ci vedo super bene non vedevo l'ora finalmente di indossare questi nuovi occhialetti che mi sono costato un sacco di soldi non vi dico il prezzo perché ognuno ha il prezzo che spende per le proprie cose per i propri occhiali ma non mi interessa di non è che non mi interessa di sapere quanto sono il prezzo però non mi va di dire il prezzo perché per me sono cose proprio personali quanto riguarda l'occhiale poi lì vado di spendere di spendere i soldi come proprio crede come proprio crede sì quindi niente ragazze e ragazzi io al momento ho un telefono che questo qua sarebbe un po' polvericioso questo comunque questo qua io se lo registrando in questo telefono vedete questo è galaxy a 13 e sarebbe questo qua vedete questo si si vede e a voi da che si vede e niente questo a galaxy a 13 si vede perfettamente bene quindi non credo di cambiare telefono perché si vede perfettamente bene non vedo perché devo appunto comprare un altro nel caso scusate se cambio continuazione se se sto con continuazione ma è perché ogni tanto preferisco prendermi una pausa dalla registrazione e niente dunque i prossimi video saranno sul video della come dire della video prodotti che sto che sto usando maggiormente e attualmente tutti i giorni parlo dal trucco alla skin care e sì il skin care mi piace da morire sto usando più skin care che trucco però va bene lo stesso come palette ve le farò vedere pian piano scorrendo nel video non questo altri video registrerò dopo questo nel video dopo questo registrerò sia le palette che poi anche la skin care farò un video un po lunghetto ma spero che a voi vi possa piacere lo stesso stamattina sono stata a matalena non so se può interessare a voi appunto per gli occhiali e poi sono stata per il come dire per portare le scarpe a mia nonna dal calzolaio un signore un signore un signore anziano però almeno è capace di fare le scarpe c'è nel senso aggiustare le scarpe e sono quasi della società di mia nonna questo signore che aggiusta le scarpe infatti ha fatto una battuta con cui non si butta via niente sia giusto tutto top quando uno dice che non si butta via niente ma sia giusto tutto top e quindi ci è piaciuto ah ragazze non lo dico adesso se questo video avete messo like grazie mille iscrivetevi al canale e attivate la campanella lasciatemi un commentino grazie di cosa vi è piaciuto di più di questo video cosa vorreste vedere nei prossimi video non mi parlate solo di smr anche altro vogliono anche i video di polizia perché finalmente torneranno anche i video di polizia sì lo so questo video è un progetto sul trucco però voglio fare anche altre cose a meno che i video di polizia non sono banditi ma non penso perché tra polizia, trucco, skin care e vlog e video chiacchiericci è top fantastico già e niente ragazzi miei ragazzi miei quando sono tornata a casa mi ha mangiato un panino con la morta dell'uccia l'ho detto anche nell'altro telefono che ahimè non mi fa esportare il video cioè l'ho esportato il video ma non me lo fa caricare non so perché quindi mi tocca andare mi tocca riregistrare video con quest'altro telefono vabbè mistero della vita non si sa perché non me lo fa registrare non me lo fa registrare con come dire con l'iphone cioè l'ho registrato con l'iphone che sto dicendo vabbè scusate sono un po stanca perché sono un po venuta cioè sono tornata a casa che erano mezzogiorno sì mezzogiorno quasi luna e vabbè prima di luna a mezzogiorno sono andata al cimitero a trovare mia madre con mia nonna è venuta anche la mia educatrice ovvero la mia pedagogista e poi alla fine siamo tornati a casa ho mangiato ho preso un caffè con la panna perché senza la panna io non ci so stare se mi chiedete se è un ginseng non è il ginseng mio anche se è vero mi brucia lo stomaco a prendere il caffè però chi se ne frega io il caffè non ci penso neanche a rinunciarci no non ci rinuncio assolutamente ripetisco è vero il caffè fa venire bruciare di stomaco ma se lo prendete con la panna è un bacio al caffè perché è troppo buono come è fatto al bar ragazzi il caffè con la panna è come se fosse fatto al bar quindi top ci piace quindi vabbè mia nonna lo beve il caffè dopo pranzo però io il rituale che facevo con mia madre quando lei beveva il caffè lo beveva dopo pranzo uno alla colazione uno a colazione scusate e l'altro dopo pranzo io mi riferisco a fare così mia nonna se prende caffè dopo pranzo scusate mi sto toccando il microfono se prendo il caffè dopo pranzo mia nonna mi diceva caput se ne va all'altro mondo non è il caso mettendo le corna si spera che mia nonna si campi altri cent'anni però dice mia nonna le dico no lo voglio un caffè ti offre un caffè mi vuoi morta no? mi vuoi morta me la? no perché? perché il caffè dopo pranzo è della vita che ho smesso di prenderlo e come fai? non faccio prego basta mangio prego e basta mi riposo perché il riposo fa bene all'anima è vero ha ragione però il caffè ha smesso di prenderlo già da un bel pezzo di tempo quando ero piccola lo prendeva perché lei andava a lavorare giustamente ma adesso che è in pensione brava non lo prende io non riescirei a non prenderlo però lei beata lei vabbè lei adesso ha 80 anni dicevo la verità ha 80 anni belli e buoni quindi quindi ho 80 anni cosa vogliamo dire è così non ce la si fa a prendere il caffè quindi vabbè uno la mattina gli basta gli avanza però vabbè niente e io mi ho preso tanto mio anno mi ho preso delle frittelle buonissime ieri ha preso le chiacchiere come frittelle oggi ha preso delle frittelle grosse così che sono delle salsicciotte così tutte belle girate le persone se stesse buonissime però sono un po oleose devo dire la verità però mi piacciono lo stesso le ho preso nella panetteria vicino a casa e sono gustose però io in realtà le ho volute mangiare lo stesso perché non sono un massimo però a me piacciono dai ma l'ho fatto un po' di mal di stomaco ma non importa me lo mangiate lo stesso ce ne è rimasto un altro po' però ho dovuto evitare di sentirmi male non ne mangio altro che meglio casomai se li mangia lei io le mangio le mie aziende stasera a cena o domani a cena domani saranno già belle mangiate le frittelle però niente io ho preferito mangiarne solo almeno due o tre piattini no sbaglio due piatti l'ho mangiato le frittelle basta e avanzano poi mi ho bevuto una bella spremuta arancia oggi pomeriggio dopo a merenda e bravissime top mi sono piaciuta la spremuta arancia insieme alla frittella e basta ragazze che dirvi io se questo video appunto vi ripetisco vi è piaciuto mettete un bel like di supporto e un commentino sempre nella sezione commenti educatamente ovviamente ci mancrebbe altro solo quello e fatemi sapere che video vorreste alla prossima al prossimo appunto ritorno mio su youtube vabbè non sono mai sparita youtube a parte quando avevo bisogno per fare una pausa da youtube quando appunto per salute perché mi devo curare che a parte che devo andare a maxilio facciale a rifarmi i rinti cioè nel senso togliere il dente del giudizio quattro dente del giudizio se non erro sì mi state di sì quindi mettiamo una bella croce a questi dentacci miei perché veramente non se ne poteva più non riuscivo manco più a mangiare questi dentacci per mia fortuna adesso mangio come un maione no non sto scherzando ora mangio più di prima e forse mangio anche troppo dovrei un po regolarmi e cominciare a fare la dieta perché la dieta altrimenti se non faccio la dieta qua andiamo male vorrei cominciare a mangiare lo stracchino ma non so manco com'è pare che sia un formaggio spalmabile spalmabile comunque niente ragazze per adesso è tutto io vi lascio e mi congetto da questo video perché vedo che sono 15 minuti già che registro e noi ci si rivede a un prossimo video dopo di questo quindi se vi riesce di registrare altri video e noi ci si vede un altro momento ciao ah mettete like e spottate un mascherino vabbè e supportatemi iscrivetevi al canale e attivate cosa la campanella ciao